Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi ho realizzato insieme a voi questo trucco occhi con solamente due ombretti e una matita, fatemi sapere poi cosa ne pensate. Incomincio applicando questo ombretto color champagne dalla palette First Love di Clio Makeup su tutta la palpebra mobile con il dito perché chiaramente risulterà molto molto più intenso e devo dire che è molto bello, guardate com'è luminoso. Poi lo vado a sfumare semplicemente con un pennello da sfumatura, in questo modo lo diffondo leggermente nella piega dell'occhio. Dopodiché con lo stesso pennello prendo questo ombretto sempre dalla First Love nella colorazione brownie e lo applico nella piega dell'occhio e lo incomincio a sfumare chiaramente facendo questo movimento avanti e indietro e lo applico anche nell'angolino esterno, sempre lo stesso colore brownie. Lo applico nell'angolo interno e poi chiaramente lo sfumo anche verso la parte che avevamo sfumato prima e sempre verso l'esterno. Ora lo applico leggermente anche nella palpebra e nella parte inferiore, scusate, così che anche lei sia bella omogenea, anche lei la tiro leggermente verso l'alto. Poi utilizzo la matita All Day Love di Clio Makeup nella colorazione marrone, molto bella, però siete attenti perché è d'estate e diventa molto molto morbida. Quindi anche se ci fate da punto dovete fare un attimo di attenzione, se no utilizzate altre matite che sono uguali. E incomincio a tracciare questa linea all'attaccatura delle ciglia cercando di rimanere il più vicino possibile, anche se devo dire che essendo così morbida è un po' complicato. E poi faccio una leggera codina da eyeliner che poi, come al solito, sistemo con il dito perché trovo che non sia niente male come tecnica. Con un pennellino angolato vado a prendere un po' di matita che risulterà più semplice e vado a riempire i buchetti che non sono riuscita a riempire con la matita stessa. E in questo modo risulterà un po' più definita e devo dire che col pennello è comunque molto molto più semplice. Ed è molto bella, devo dire. Ora applico il mascara, utilizzo questo qua di Maybelline, molto bello. E il mascara chiaramente fa un effetto incredibile e il risultato è mille volte più bello. Cioè, un trucco senza mascara secondo me è un trucco non completo perché cambia proprio totalmente il risultato. E questo quindi è il risultato finale del trucco. Mi piace veramente tanto, super veloce, facile, con pochissimi prodotti. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!